Ciao ragazzi sono Vale03, questo è un video abbastanza veloce per parlare appunto di quel che hanno fatto Manny Fresh e Bello Figo Gu che vi stanno ingannando con sto fatto della rissa, vi stanno ingannando da tre ore, sono uscite due canzoni, svegliatevi quelli che ci credono sono uscite due canzoni di questi artisti, uno sul canale di Manny e uno sul canale di Bello Figo sono diventati molto furbi, hanno fatto molte visualizzazioni, più di 700.000 visualizzazioni questi due vi stanno ingannando, questi due vi stanno ingannando ma Manny Fresh non lo so dicevano che doveva fare questa rissa ma è ovvio che è finta, è fake come sempre no? perché è hype, hype, hype e c'è gente dietro che ci crede che va con Manny tipo oh vieni qua presentati, c'erano le stories, no? Ho visto le stories veramente veramente stupida questa gente che ci crede ancora a questa rissa è una stupidaggine, Manny Fresh è Bello Figo, si sono accordati si sono accordati, basta che tu gli fotti il telefono e vedi sul telefono di Manny Fresh si sono accordati per fare questa buffonata, è una buffonata perché sono uscite due canzoni, due canzoni, secondo me in questo lasso di tempo hanno fatto pure la seconda canzone l'hanno fatto prima, hanno pre-registrato la prima e poi la seconda, quella sul canale di Bello Figo l'hanno fatta dopo e che dire, c'è stato un grande successo la canzone con Bello Figo sta in quinta o sesta in tendenza complimenti per l'hype, comunque bravi perché comunque questa è anche furbizia e sfruttamento ovviamente della stupidità umana perché ormai tutti quanti sono stupidi e raga che dire vabbè io vi saluto però è una vergogna veramente una vergogna però da una parte è anche giusto così perché la gente ormai non sa distinguere più una cosa fake da una cosa reale, da una cosa praticamente palesemente fake è una cosa palesemente reale e ragazzi siamo veramente messi male e vabbè, ci ricciao